È arrivato il via libera all'approvazione dell'adeguamento del regolamento edilizio a Martina Franca. Il provvedimento è stato votato all'unanimità nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Dopo la relazione sul punto all'ordine del giorno da parte dell'assessore Roberto Ruggeri, si è aperta la discussione al termine della quale il provvedimento è passato con voto unanime di maggioranza e opposizione. L'approvazione del nuovo regolamento edilizio arriva proprio mentre si va nella direzione dell'adozione del piano urbanistico generale. Assolutamente sì, è stato un momento importante che ha consentito di donare e dare alla città uno, il primo strumento di semplificazione dei procedimenti amministrativi. Snellirà tanto le pratiche già magari presentate, che magari avrebbero delle lungaggini burocratiche al comune e tutte le altre che saranno presentate all'ufficio suo e all'ufficio urbanistica. A che punto siamo con l'approvazione del piano urbanistico? Le parti politiche stanno chiudendo, abbiamo praticamente chiuso tutta la decisione politica poi sui contributi arrivati nella fase dell'osservatorio per la bellezza e negli incontri di partecipazioni con le associazioni della nostra città. Questo percorso si è chiuso, stiamo facendo sintesi per dare il mandato definitivo all'ufficio che avverrà sicuramente nelle prossime settimane per lavorare poi operativamente e tecnicamente alla modifica di tutti gli elaborati.